No, no, a forza, salta un po', no, salta un po', no, vabbè facciamo un po', un brano delicato a... All'Inter? No, nessuna persona di calcio, nessuno, perché bisogna fare una squadra che non... Ah, beh, fai il buco, vabbè, allora, tu sei intervista? No, assolutamente, beh, allora, non sai di che squadra sei? Sì, io, quando ho scritto questo brano, che questo è un'idea, frutto di questa mente malata, l'ho scritto quando abbiamo perso la finale di Cotto dei Campioni, ho voluto dedicare a questo brano... Ecco la, non lo sapevo, finale persa malamente... Contro chi? Vai di gol! Vai di gol, dopo un 3 a 0 del primo tempo, ragazzi, fa male... Ma quella vecchia, c'è un buco, è un contoso... Dai... Se stava a calcio fin giù... Dai... Comunque, immaginate il calciatore moderno... Dai... 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 ... Dai... 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 ... 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